1, 2, 3 e quindi insieme 3, 2, 1, partono! Noi siamo pronti ad applaudirlo! Il pettorale, eccolo qua, eccolo qua, fate sentire gli applausi, pettorale 652 3, 2, 1, partono! Il pettorale è il numero 666, partiamo di Mario Cardamone! 3, 2, 1, parte! La categoria G2! La categoria G2! La categoria G2! Simone! Irene Coco, eccola qua, 694, arriva la prima! Parte la gara G3! La categoria G2! La categoria G2! Ancora un'altra, questa è una streghetta, questa è una streghetta, Miriam Migro! La categoria G2! La categoria G2! La categoria G2! La categoria G2! La categoria G4! È un'altra, questa è una streghetta, questa è mezza. Siamo pronti per il 3, 2, 1, parte! La categoria G4! E potrebbe essere un'attualità, bravo! Intanto, eccoli qua, eccoli qua! Ci sarà una finale a Golliano in provincia di Salerno! Pronti i vostri applausi per Alberto e Cinzia Coco! Alberto che ha voluto accelerare, non si sa mai che mia sorella mi viene a sorpassare! E poi pronti per il 3, 2, 1, partono! Gli applausi pronti per la prima posizione nella categoria G5 a vincere Gabriele Sorbello! Gli applausi sono per Giovanni Palmo! La copertina della Sila Epic e per lui abbiamo un regalino! Ne prenderai due di maglia oggi, ma intanto mostra questa, mostra questa, dai! Che è quella che hanno preso i grandi, marchiata Sila Epic! E naturalmente è una bella calamita da mettere vicino al frigo, dove vuoi, sulla macchina di papà! Sulla macchina di papà! Fate l'applauso quindi ad Alois e metti via Lessano! Applausi per Luigi Falbo! Secondo posto per Andrea Borrello! E primo posto applausi per Mario Gardamone! Sono di stregone volante! Secondo posto per Vito Simone della scuola di ciclismo alessanese! E primo posto e applausi per Pierluigi De Paola, Calabria Cycling Academy! Stregone Volante! Corrello, stregone volante! E primo posto e applausi per Alberico Catalano! Stregone Volante! Applausi di più, di più, di più, di più, di più per Luciana, di più! Ancora di più per la prima posizione! Miriam Nigro, stregone volante! E qui scatta anche il premio di società riservato dal presidente a Miriam Nigro per questa bellissima vittoria! Inzia Coco! E qui abbiamo due gemelli, insieme, dai, dai, insieme! Di Bike 1275! Beh, 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 allora, non ho sentito gli applausi per questi nostri atleti... Oh, sì, sì, adesso sì! Con un saluto naturalmente al nostro amico Luigi! Gli bambini devono presentarsi qui, ma proprio tutti, 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 senza bici, naturalmente! Gli organizzatori! Anche il nostro amico impegnato nel safari! Vieni, Romano, vieni! Allora, facciamo una prova, eh! Facciamo una prova con... Sapete come funziona una prova? Bisogna portare su le mani e dire... Sì, la Epic! Ok, attenzione! No! Facciamola questa prova al mio tre! Uno, due... Aspetta! Anche voi genitori, possibilmente, così esce l'audio! Uno, due, tre! Sì! Sì! Grazie! Grazie!